Siamo con il professor Epifani dell'Università di Roma, la Sapienza, professore alla Facoltà di Scienze della Comunicazione di Roma. Professore, cosa ne pensa di questa iniziativa dei ragazzi dell'UG dell'Università? L'iniziativa mi sembra un'ottima iniziativa perché rappresenta un momento di contatto importante tra i ragazzi e le tecnologie. Troppo spesso noi diciamo che il Digital Divide crea generazioni di ragazzi che non conoscono il computer. Questa è la dimostrazione che tante cose si possono fare. Il fatto che queste cose siano organizzate proprio dai ragazzi all'interno dell'Università mi sembra assolutamente un'ottima cosa. Che cos'è l'open source e quanto l'open source è importante per la formazione dei ragazzi? A partire dall'università fino ad arrivare poi nel mondo del lavoro. L'open source, cominciamo col dire che l'open source è una grande opportunità. È una grande opportunità di diffusione di una conoscenza nuova, di una conoscenza costruita in modo nuovo. Di una conoscenza che non è vincolata da potentati, di grandi aziende. Di una conoscenza che è in grado di svilupparsi secondo strade che sono assolutamente nuove e interessanti. Il fatto che i ragazzi si occupino di open source è ancora una volta un'altra opportunità. Perché? Perché troppo spesso diciamo che la diffusione dei sistemi operativi come Windows nasce dal fatto che sono più semplici, dal fatto che sono più diffusi, nasce dal fatto che sono state fatte politiche di marketing assolutamente efficaci. L'open source insegnato dai ragazzi, con i ragazzi e tra i ragazzi rappresenta un'opportunità per il futuro. Perché se i ragazzi cominciano a conoscere i sistemi open source, se i ragazzi cominciano a conoscere le filosofie ancora prima che i sistemi open source, senz'altro i ragazzi che poi saranno i manager di domani sapranno diffondere i sistemi open source e la mentalità che sta dietro questi sistemi anche al resto del mondo. Visto che siamo in ambito universitario, un'ultima domanda al professore. volevo chiedere quali sono le possibilità, le opportunità lavorative che offrono le nostre strutture in ambito universitario per trovare un lavoro ai ragazzi. Insomma, è il problema che di questi tempi va per la maggiore. Dunque, per quanto riguarda le università, le università stanno cercando di fare diverse iniziative orientate al recruitment e all'outplacement. In altri termini le università cominciano a preoccuparsi seriamente per quello che succede ai ragazzi una volta che ne escono. E questo è un primo punto. Rispetto al tema dell'open source ritengo che sia oltretutto anche un'ottima opportunità di lavoro. Perché? Perché c'è sempre più richiesta dei sistemi open source e ci sono sempre più aziende che stanno comprendendo quanto sia importante implementare architettura open source. E in questo è importante che i ragazzi sappiano di cosa si parla. Ringraziamo il professore Epifani.